Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail entro il mese di novembre in tutta Italia sono state 997, 49 in meno rispetto alle 1046 dei primi 11 mesi del 2018, il calo è di quasi il 5%. Ma mentre a livello generale si registra un pur se non eclatante segno meno, in Sicilia c'è stato purtroppo un aumento delle morti sul lavoro con 13 casi in più nei primi 11 mesi del 2019. Crescita dovuta alla carenza di controlli e al tessuto economico della nostra isola, dichiara alla Repubblica Francesco Cantafia, responsabile delle politiche della sicurezza della CGL siciliana. Nella nostra regione gli incidenti mortali crescono a fronte di una diminuzione delle ore di lavoro perché si risparmia sulla sicurezza, sostiene ancora il sindacalista che punta il dito in particolare contro la mancanza di ispettori. Va anche detto che recentemente il presidente della regione nello Musumeci ha annunciato l'arrivo di 280 nuovi ispettori. E serviranno tutti, anche perché, queste sono le conclusioni della CGL, facendo un conto due anni fa abbiamo calcolato che in Sicilia un'azienda rischia di essere controllata una volta ogni 95 anni e ad oggi non è cambiato molto.